Flavia Guardascione, Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Baccole, un giorno gratificante e bello l'inaugurazione di una scuola? Direi proprio di sì, dopo tanto lavoro, tanta fatica, oggi inauguriamo il plesso primaria di Miseno. È un progetto che è cominciato nel gennaio 2013, oggi in realtà già a fine anno erano pronti. Siamo veramente molto contenti perché la scuola è stata completamente rifatta, proprio dalle fondamenta. Ed è una scuola all'avanguardia in termini di sicurezza, di funzionalità, proprio di progetto educativo. Accoglie i bambini con serenità, quindi possiamo veramente essere soddisfatti. Una scuola che si trova nella periferia e che non viene dimenticata? Assolutamente no. Miseno è una frazione di Bacoli animata, viva e comunque ha un certo numero di bambini che prima che la scuola fosse chiusa frequentavano la primaria. Quindi oggi i bambini ritornano a scuola contentissimi e siamo contenti anche noi per loro.